Grazie Presidente, un altro emendamento a saldo zero per il municipio, non c'è da aggiungere altro, ringrazio i colleghi per l'appoggio su queste piccole misure che sono essenziali per il bene del territorio e per aiutare i municipi, il municipio in questo caso a superare momenti difficili legati anche al rallentamento fisiologico che c'è stato con l'emergenza Covid, credo che dovrebbe vedere tutti i gruppi a sostegno in questo momento di difficoltà su certe misure e anche su certi piccoli ritardi che ci possono essere all'interno dei municipi e credo che astenersi dall'aiutare in questo momento in questa manovra di bilancio queste piccole modifiche significhi non aiutare i cittadini, io non farei politica stretta su questa cosa ma più che altro mi impegnerei fino in fondo affinché si possa dare una mano a superare questo momento di difficoltà che dovrebbe vetire tutte le forze politiche unite e non lo dico anche con dispiacere vedere polemiche inutili e sterili confini politici su quello che poi ha un servizio da dare alla cittadinanza necessario, per cui mi auspico anche un ripensamento da parte dei colleghi di opposizione affinché prevalga il buonsenso e un po' meno in questo momento la voglia di fare politica, scusate se lo dico, sui bisogni dei cittadini. Grazie.